La pattinatrice russa Camila Valiava è risultata positiva ad una sostanza vietata. La notizia, che già circolava da qualche ora, trova conferma nel Comitato Olimpico Internazionale, che ora si oppone alla decisione della Russia di consentirle di continuare a gareggiare a Pechino. Il caso sarà esaminato da un collegio della Corte Arbitrale dello Sport. La decisione dovrà essere presa entro il 15 febbraio, data in cui sarebbe prevista la prossima esibizione della pattinatrice di figura non ancora a 16. Sospesa pure l'assegnazione delle medaglie del Team Event, in cui la Russia si era giudicato l'oro davanti a Stati Uniti e Giappone.